Quante è un'opera alle festa! Allora, il time è 8 minuti. E partire grosso e tagliare, non deve essere un formato proprio. Sotto per Youtube, questi piccoli predizioni. E' una cosa che dobbiamo fare, comunque, è che ci sia Roberto Morelalbo. Anche il making pop di allestimento dell'ultimo. La faccio, cazzo. Intanto sicuramente fate qualcosa di un gioco spezioso. Sto dicendo che la faccio, la faccio, la faccio, la faccio, la faccio, la faccio. L'ho messo pure eventuali viaggi. Penso che a causa di noi appariamo riprese di post del mondo con la pala. Poi ragazzi, ora l'anno in Belgrado. Tutta l'Italia in form. Fli, prendi. Io vedi che li devo dire con le casse messe a colpo. Io vedi che era stato un bomb. Nooo. Allora, fai pesantissimo. Va bene, va bene. Ce l'hai? Si. Ok. Ok. Ok, aspetta, aspetta. Galino. Galino. Non so se... A tirare le parole del grande maestro durante l'avestimento. Questo diciamo è uno storico. Studi e prover. Studi operativo. Te l'avestico. Città, ho messo nave. Oggi tutte le retzazioni... Oggi che c'erano i torri policy sono ancora più forte. Stiamo, stiamo, stiamo. Stiamo, Berlino. Questo è molto interessante perché è un'evoluzione. Il processo è un spirale. Ok, il spirale è il finito del traccio. Tutti i traccio sono come un pixel. Siete come funziona il vinilo? Il materiale e il materiale crea un'evoluzione. Quindi creiamo lo stesso, ma non con il materiale diversi, ma con il materiale diversi. E quindi iniziamo a fare questo tipo di performa. Io metto per ogni nota il colore del rispetto. Con il finger. Aspettate questo video per promuovere, mentre prima le tracce le vanno. Certo. Perché non chiedete tutta tanta cosa. Certo. Intanto quello che dovevo riuscire a fare è portare la ruota da. Tecnica limpo. Avevo pensato ad una persona che parla in maniera tecnica. In diretta su M2 lo raccolterà la sua creatura. Bravissimo. Sì. Lui. Sì. Siamo che fa a cima con Firenze. A vedere com'è qua la location per un po' di riprove. Lo faccio un po' di video vedere. Benvenuti alla M2o Station. Backstage assolutamente. Ciao ciao. Buonasera. Sì. Assegna ogni nota un colore col pennello. Quindi sente la traccia in cuffia. E in base alla nota c'è un colore. Facciamo una sciotta di stampante. Cazzo fra. Sei diventato una macchina. Tipo cammino. Stiamo lavorando a quest'altro. E' bello e buono. Sai come fanno i tecnici. A un certo punto. Vai a parlare. Perché la maturazione. Quindi è come entrare dentro una traccia audio. Una struttura. Una struttura che serve un mila. Quale? Un mega cerchio tipo Stargate. Infatti è un protale signore. Bello ti fa uscire due shit quelle là. Sotto. Una speciale. Gravissimo. Tipo TC4 capito? Special manager sound and cultural exposition. Gravissimo. Abbiamo il nostro rooftop. Abbiamo le nostre antenne. E poi abbiamo le antenne per le stelle. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Ok, i progetti proviamo in Italia. La gente deve vedere lo step successivo. Stem international. Grazie a tutti.